Arrivano continuo accuse da parte dei tifosi di città laggiù e poi giustamente noi non dobbiamo portare le prove del contrario. Questa volta chi è il capo ispiratore? Naturalmente il presidente, come vi ho portato tante volte, della pseudo federazione italiana gioco calcio, ma che abbiamo tutti ormai imparato a conoscere come federazione interista gioco calcio. Gravina che disse la Juventus è un grande brand e va salvato. Attenzione da lì, giustamente, i tifosi di Narnia hanno cominciato a dire, vedete, anche voi avete il vostro santo in paradiso. Gravina ha detto che il brand va salvato e quindi siete stati graziati. Andiamo a ascoltare alcune parole del presidentissimo che, diciamo, non sono proprio di quella linea lì dei tifosi di Narnia e poi le commenteremo assieme perché sono arrivate giustamente delle critiche ai contenuti che ho portato. Per quel che riguarda il presidentissimo. Come sempre mettete un bel like perché la risposta non la devo dare io, ma la dovete dare anche voi, naturalmente, commentando questo video. Il like serve per supportare il contenuto. Aspettate la fine per il commento, ma non dimenticate di farlo perché è tutta realtà quella che portiamo in questo canale. Iscriviti se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina. Abbiamo superato i 16.000, vi ringrazio di cuore, non me ne ero neanche accorto. Anche se c'è qualcuno che fa un pochettino le pucci a questo canale, poverino. Mi dispiace. Purtroppo stiamo continuando a crescere piano piano, ma stiamo continuando a crescere. Condividiamo questo video perché diamo una risposta definitiva a chi ancora è convinto che Gravina voleva effettivamente salvare il brand. Lo ha fatto oppure no? Intanto andiamo a sentire alcune sue parole che hanno dell'incredibile perché parte già veramente fortissimo. Lo devo fermare quasi immediatamente quando parte perché... Diciamo che non sono proprio parole che ci aspettavamo, dato che è uno di quelli che vuole salvare il brand. Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non ci sono problemi. Potete fare quello che volete, però... Attenzione, se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non ci sono problemi. Potete fare tutto quello che volete. Adesso però comunque vi spiega. Però intanto ve lo dice, potete fare tutto quello che volete. Siete liberi, siete solo giornalisti, siete quelli che poi alla fine vanno ad influenzare il volere popolare. Se volete fare linciaggio di piazza, tanto è la Juventus. Il brand è da salvare. Avete capito? O ve la devo spiegare. Stiamo un po' cauti perché credo che quel tema potrebbe riguardare anche altri soggetti. Attenzione, un altro piccolo stoppino. Per quel tema potrebbe riguardare anche altri soggetti. Non è che Gravina già sapeva che c'erano anche altre squadre che facevano le stesse cose della Juve. Che però giustamente, volendo salvare il brand Juventus, non ha tirato fuori le cose delle altre squadre. Che sono venute fuori dopo, assolutamente sono venute fuori dopo. Quelle del Sassuolo con la Roma, quelle dell'Inter con la Roma. Ma che giustamente IPM, sappiamo chi ne è, lo stesso del passaporto falso di Recoba. Ma non solo, anche della patente che stranamente dalla motorizzazione di Gravina, sembra la motorizzazione, non mi ricordo, da Latina, non Gravina, che comunque fa rima, è andata a finire nella scrivania, anzi dentro al cassetto della scrivania dell'Inter. Ma è un puro caso, questo ragazzi, è magia. Si insala PIF e compaiono i documenti contraffatti. Un personaggio che fino a qui ha dimostrato dal modo di parlare che assolutamente vuole salvare il brand Juventus. Quindi fate linciaggio di piazza, tanto la Juventus potete fare quello che volete. Ma attenzione però, io sarei più cauto perché altri soggetti potrebbero essere coinvolti. E poi abbiamo visto che effettivamente non sono solo coinvolti, ma sono anche i fautori di questo modus operandi, che sono le plusvalenze. E non solo, perché ci sono anche delle garanzie date per l'iscrizione al campionato che sono totalmente fasulle. Su questo si indaga? Assolutamente no! Fascicolo conoscitivo e tutto verrà cestinato, anzi già è stato cestinato. Si aspetta soltanto il momento giusto per dare la notizia, cioè dopo l'inizio del campionato. Ma andiamo avanti con il salvatore del brand della Juventus. Sappiamo che è l'angelo custode, il juventino ormai gravina. Quello che disse, giustamente la Juventus è un grande brand, va salvato. Quindi per salvarlo che cosa facciamo? Adesso andiamo poi a vedere assieme. Io per un fatto di serietà, di onestà intellettuale, devo sottolineare due aspetti. Il primo, il mondo del calcio vive dei momenti di tensione, non solo in Italia, ma credo in tutta Europa, in tutto il mondo. E così come ogni settore dell'economia, quindi le criticità sono criticità piuttosto evidenti. Quindi non mi piace l'idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che venga svolto un processo. Ci sono delle... Ah come no? Ancora prima che tutto venisse preso in mano dagli avvocati. Avete già dato 15 punti, poi 12, poi 10. Già tutto spiattellato sulle prime pagine dei giornali. E a lui non gli piace che in questo caso gli dispiace qua, gli dispiace che si deve punire una realtà, che in questo caso è proprio la Juventus. E' da lì che è diventato il santone della Juventus. E' dispiaciuto. E' talmente dispiaciuto che quando la Juventus vince la finale di Coppa Italia, la sua faccia è questa qua. E' rimasto dispiaciuto. L'uomo che doveva salvare il brand. che deve premiare la squadra che vince la Coppa Italia e che esclama, cosa che è uscita da questo canale, perché me l'hanno detta le persone che erano vicine proprio a quel personaggio lì, non doveva andare così. E la faccia lo dimostra. Quelle le non me ne sono arrivate. Se uno più uno fa 20 in quel di Narnia. Ci sono delle indagini. Ci sono delle acquisizioni di atti. La nostra procura è allertata, già aperto. Non conosciamo l'esito o comunque le condizioni del procedimento della magistratura ordinaria. So che c'è stretto collegamento tra i due rami di giustizia. Aspettiamo tutto quello che emergerà nel corso di questo processo molto importante. E' sicuramente un momento di riflessione, di sistema. Ma sottolineo, non facciamo, non sanzioniamo i soggetti, non corporalizziamo i soggetti prima di svolgere i processi. Che caro, che dolce, che tenero il nostro Santone. Se non fosse per lui la Juventus, come mi avete scritto alcuni tifosi naturalmente, però educatamente avete scritto, anche se fate parte di Città Laggiù. E' per questo che vi sto rispondendo con questo contenuto. Se non fosse stato per il vostro Gravina, che deve salvare il brand, sareste andati in Serie D addirittura. Altro che una ridicola multa di 700 mila euro e rotti, più 10 punti in classifica. Io ci aggiungerei più l'eliminazione della Coppa UEFA. 100 milioni circa di danno per quello che concerne la non partecipazione alla Champions League in Todos. Naturalmente tutto quello che hai perso in borsa, la faccia che ci hai perso, il trattamento che hai ricevuto da parte di tutti gli enti della Serie A. Io direi che il danno è molto più che 700 mila euro. E pensa a te se questo personaggio non voleva salvare il brand. La Juventus in Serie B non può andare. Qualsiasi cosa loro si inventano. Non riusciranno mai a mandarla più in Serie B, perché finisce il calcio. Avete visto con le disdette che cosa è successo? Dazon il prossimo anno se ne può andare a vendere meloni in spiaggia. Questo può fare. Perché è finita la gente. Non siamo più nel 2006. Non siamo più nel 2006. La gente ve l'ha dimostrato. Anche col Cosid. C'è gente che è in grado di ragionare. E soprattutto non sono più muti come prima. Vi ricordo che Gravina, per chiudere, era quello che quando il Tardellazio ha dato ragione alla Juventus per quel che riguarda la carta segreta che aveva in mano Kine, Kine doveva consegnare la carta segreta alla Juventus il Santone che fece la grazia a Lukaku quando era nell'Inter. Ricordiamolo, Lukaku nell'Inter si fece pure una guerra contro il razzismo. Poi è uno dell'Inter che commette lo stesso errore dando diversamente colorato ad un altro però in quel caso la guerra, il razzismo non si fa più. In quel caso intervenne anche Gravina, vi ricordate? Togliamo il cartellino rosso a Lukaku per combattere il razzismo. Il Santone della Juventus. Colui che a ogni partita di Champions si accompagna con Ceferin e Marotta. Colui che andava a trovare in ritiro l'Italia con Marotta. Colui che ha incontrato i personaggi di Octree che sono venuti a conoscere proprio Gravina, la Russa e Abodi. Hai capito? O te la devo spiegare? Di nuovo.